L'Epistola di Paolo Apostolo ai Filippesi, Capitolo 1 Paolo e Timoteo, servitori di Cristo Gesù a tutti i santi in Cristo Gesù, che sono in Filippi, coi vescovi e coi diaconi, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Io rendo grazie all'Idio mio di tutto il ricordo che ho di voi, e sempre, in ogni mia preghiera, prego per voi tutti con allegrezza a cagione della vostra partecipazione al progresso del Vangelo dal primo giorno fino ad ora, avendo fiducia in questo, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ed è ben giusto che io senta così di tutti voi, perché io vi ho nel cuore, voi tutti, che, tanto nelle mie catene quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo, siete partecipi con me della grazia, poiché Dio mi è testimone come io sospiri per voi tutti con affetto sviscerato in Cristo Gesù. E la mia preghiera è che il vostro amore sempre più abbondi in conoscenza e in ogni discernimento onde possiate distinguere fra il bene ed il male, affinché siate sinceri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. Ora, fratelli, io voglio che sappiate che le cose mie sono riuscite piuttosto al progresso del Vangelo, tanto che a tutta la guardia pretoriana e a tutti gli altri è divenuto notorio che io sono in catene per Cristo. E la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dai miei legami, hanno preso vie maggiore ardire nell'annunziare senza paura la parola di Dio. Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per contenzione, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato della difesa del Vangelo, ma quelli annunziano Cristo con spirito di parte, non sinceramente, credendo cagionarmi afflizione nelle mie catene. Che importa? Comunque sia, o per pretesto o in sincerità, Cristo è annunziato, e io di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora, perché so che ciò tornerà a mia salvezza mediante le vostre supplicazioni e l'assistenza dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia viva aspettazione e la mia speranza di non essere svergognato in cosa alcuna, ma che con ogni franchezza ora, come sempre, Cristo sarà magnificato nel mio corpo, sia con la vita, sia con la morte. Poiché per me il vivere è Cristo e il morire guadagno. Ma se il continuare a vivere nella carne, rechi frutto all'opera mia, è quello che io debba preferire, non saprei dire. Io sono stretto da due lati. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è cosa di gran lunga migliore, ma il mio rimanere nella carne è più necessario per voi. Ed ho questa ferma fiducia che io rimarrò e dimorerò con tutti voi per il vostro progresso e per la gioia della vostra fede, onde il vostro gloriarvi abbondi in Cristo Gesù a motivo di me, per la mia presenza di nuovo in mezzo a voi. Soltanto conducetevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché o che io venga a vedervi, o che sia assente o da di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo assieme di un medesimo animo per la fede del Vangelo, e non essendo per nulla spaventati dagli avversari, il che per loro è una prova evidente di perdizione, ma per voi di salvezza, e ciò da parte di Dio. Poiché a voi è stato dato, rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, sostenendo voi la stessa lotta che mi avete veduto sostenere e nella quale ora udite che io mi trovo. Capitolo 2 Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se vi è qualche conforto di amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza d'affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia allegrezza, avendo un medesimo sentimento, un medesimo amore, essendo di un animo, di un unico sentire, non facendo nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno di voi con umiltà, stimando altrui da più di sé stesso, avendo ciascuno di voi riguardo non alle cose proprie, ma anche a quelle degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì sé stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini, ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò sé stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e dalla morte della croce. Ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Così, miei cari, come sempre siete stati ubbidienti, non solo come se io fossi presente, ma molto più adesso che sono assente, compiete la vostra salvezza con timore e tremore, poiché Dio è quello che opera in voi il volere e l'operare per la sua benevolenza. Fate ogni cosa senza mormorì e senza dispute, affinché siate irreprensibili e schietti figliuoli di Dio, senza biasimo in mezzo ad una generazione storta e perversa, nella quale voi risplendete come luminari nel mondo, tenendo alta la parola della vita, onde nel giorno di Cristo io abbia da gloriarmi di non avere corso in vano né in vano faticato. E se anche io debba essere offerto a mo' di libazione sul sacrificio e sul servizio della vostra fede, io ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi, e nello stesso modo gioitene anche voi e rallegratevene con me. Ora io spero nel Signore Gesù di mandarvi tosto Timoteo, affinché io pure sia incoraggiato, ricevendo notizie dello stato vostro, perché non ho alcuno d'animo pari al suo che abbia sinceramente a cuore quello che vi concerne, poiché tutti cercano il loro proprio, non ciò che è di Cristo Gesù. Ma voi lo conoscete per prova, poiché nella maniera che un figliuolo serve al Padre, egli ha servito con me nella causa del Vangelo. Spero dunque di mandarvelo, appena avrò veduto come andranno i fatti miei. Ma ho fiducia nel Signore che io pure verrò presto, però ho stimato necessario di mandarvi Epafrodito, mio fratello, mio collaboratore e commilitone, inviatomi da voi per supplire ai miei bisogni, giacché egli aveva grande brama di vedervi tutti ed era angosciato perché avevate udito che egli era stato infermo. E di fatti è stato infermo e ben vicino alla morte, ma il Dio ha avuto pietà di lui e non soltanto di lui ma anche di me, perché io non avessi tristezza sopra tristezza. Perciò ve l'ho mandato con tanta maggiore premura, affinché vedendolo di nuovo vi rallegriate e anch'io sia meno rattristato. Accoglietelo dunque nel Signore con ogni allegrezza e abbiate stima di uomini così fatti, perché per l'opera di Cristo egli è stato vicino alla morte, avendo arrischiata la propria vita per supplire ai servizi che non potevate rendermi voi stessi. Capitolo 3 Del resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. A me certo non è grave di scrivervi le medesime cose, e per voi è sicuro. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli della mutilazione, poiché i veri circoncisi siamo noi che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci gloriamo in Cristo Gesù e non ci confidiamo nella carne, benché anche nella carne io avessi di che confidarmi. Se qualcun altro pensa avere di che confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Io, circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge irreprensibile, ma le cose che mi erano guadagno, io le ho reputate danno a cagione di Cristo. Anzi, a dire il vero, io reputo anche ogni cosa essere un danno di fronte alla eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale rinunziai a tutte codeste cose, e le reputo tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, avendo non una giustizia mia derivante dalla legge, ma quella che sia mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede, in guisa che io possa conoscere esso Cristo e la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme a Lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Non che io abbia già ottenuto il premio, o che sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il corso se mai io possa afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Cristo. Fratelli, io non reputo d'avere ancora ottenuto il premio, ma una cosa fo, dimenticando le cose che stanno dietro, e protendendomi verso quelle che stanno dinnanzi, proseguo il corso verso la meta per ottenere il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. Sia questo dunque il sentimento di quanti siamo maturi, e se in alcuna cosa voi sentite altrimenti, il Dio vi rivelerà anche quella. Soltanto dal punto al quale siamo arrivati continuiamo a camminare per la stessa via. Siate miei imitatori, fratelli, e riguardate a coloro che camminano secondo l'esempio che avete in noi. Perché molti camminano, ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo, da nemici della croce di Cristo, la fine dei quali è la perdizione, il cui Dio è il ventre, e la cui gloria è in quello che torna a loro vergogna, gente che ha l'animo alle cose della terra. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, donde anche aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria in virtù della potenza per la quale egli può anche sottoporsi ogni cosa. Capitolo 4 Perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, allegrezza e corona mia, state in questa maniera fermi nel Signore o diletti. Io esorto Evodia ed esorto Sintiche ad avere un medesimo sentimento nel Signore. Sì, io prego teppure, mio vero collega, vieni in aiuto a queste donne, le quali hanno lottato con me per l'Evangelo, assieme con Clemente e gli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel Libro della Vita. Rallegratevi del continuo nel Signore. Da capo dico, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna, ma in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio in preghiera e supplicazione con azioni di grazie. E la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, guarderà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Del rimanente, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui e qualche virtù e qualche lode siano oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e vedute in me, fatele e l'iddio della pace sarà con voi. Ora io vi sono grandemente rallegrato nel Signore che finalmente avete fatto rinverdire le vostre cure per me. Ci pensavate sì, ma vi mancava l'opportunità. Non lo dico perché io mi trovi nel bisogno, giacché ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. Io so essere abbassato e so anche abbondare. In tutto e per tutto sono stato ammaestrato ad essere saziato e ad avere fame, ad essere nell'abbondanza e ad essere nella penuria. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Non di meno avete fatto bene a prendere parte alla mia afflizione. Anche voi sapete, o filippesi, che quando cominciai a predicare l'Evangelo, dopo avere lasciato la Macedonia, nessuna chiesa mi fece parte di nulla per quanto concerne il dare e l'avere, se non voi soli. Poiché anche a Tessalonica mi avete mandato una prima e poi una seconda volta di che so venire al mio bisogno. Non già che io ricerchi i doni. Ricerco piuttosto il frutto che abbondi a conto vostro. Ora io ho ricevuto ogni cosa e abbondo. Sono pienamente provvisto, avendo ricevuto da Epafrodito quello che mi avete mandato e che è un profumo di odore soave, un sacrificio accettevole gradito a Dio. E lì Dio mio supplirà ad ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze e con gloria in Cristo Gesù. Ora all'I Dio e Padre nostro sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Salutate ognuno dei santi in Cristo Gesù. I fratelli che sono con me vi salutano. Tutti i santi vi salutano, e specialmente quelli della casa di Cesare. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con lo spirito vostro.